La Juventus potrebbe aver definitivamente chiuso il discorso Scudetto, questo l'esito di uno dei due posticipi della settima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Allo Juventus Stadium i bianconeri di Massimiliano Allegri, a termine di un match sofferente, vincono sul Sassuolo per una rete a zero, grazie ad un bellissimo gol di destro di Pogba. In precedenza all'Olimpico la Lazio aveva battuto la Fiorentina per 4 a 0, si trattava questo di un incontro importante anche in chiave europea. Il vantaggio bianco-celeste si concretizza nel primo tempo al sesto minuto con Viglia, poi il raddoppio sul calcio di rigore al quarto d'ora della ripresa con Candreva e poi la doppietta del Tedesco Close alla mezz'ora e a dieci minuti dalla conclusione del match. Con questo risultato la Lazio raggiunge il Napoli al terzo posto in classifica.